Un torrione più illuminato, piazza croti del terrorismo nuova di Zecca, eppure un ex macello comunale completamente recuperato. Nonostante il covid e gli annessi e connessi, non si fermano i lavori pubblici in città. Negli ultimi giorni, infatti, sono stati aggiudicati, seppur in maniera provvisoria, i lavori per il torrione e piazza caduti. Il primo vedrà sorgere un museo all'interno e un impianto illuminotecnico che darà luce anche al fossato sottostante. La piazza, invece, si allargherà fino alla parrocchia di Sant'Andrea, dando vita a un'area completamente pedonale senza più i tassonetti per i rifiuti. A giorni, inoltre, arriverà anche il bando per l'ex macello comunale, che diventerà la vedetta principale per e sulla Mabalice. E non è finita qui, perché a dicembre sarà la volta delle strade e dei marciapiedi lungo il percorso del Lungolama, con la novità del bus navetta. Sarà un bando che prevede la necessità, come già dichiarato, di istituire un servizio di navetta puntuale che parte da un parcheggio custodito 24 ore su 24 nei pressi della piscina comunale e poi con una navetta che prevede una corsa ogni 10 minuti con stop in Porta Manamaglia, Ponte Santa Teresa e Piazza Caduta e Terrorismo per poi ritornare. Una navetta completamente dedicata al centro antico.